Le cose cambiano molto lentamente, quindi c'è sempre un bisogno, una necessità e un senso di coinvolgersi. La striscia di Gaza di oggi come l'Uganda di ieri, così come tante parti del mondo in cui sono sempre tanto difficili il cambiamento quanto la pace. Le parole di Alberto Reggiori, che insieme alla moglie Patrizia hanno raccontato la loro esperienza di vita al Giugno Sport di Gavirate. Un'esistenza alla loro, al servizio dei più deboli, in diversi ospedali e realtà, supportati da Avsi e Unicef. Il mondo dunque cambia troppo lentamente, mentre resta la drammaticità delle storie così lontane da noi e non abbastanza vicine. Penso che sia veramente importante uscire un po' dal nostro tipo di informazione che tante cose le ignora.